Il Teatro Infiniti è una bellissima manifestazione, il comune fiero e orgoglioso di partecipare e di patrocinare questa manifestazione fornendo anche un sito, una location gratuitamente a chi organizza l'associazione Nave Argo, la Villa Patti. È una bellissima manifestazione in un bellissimo luogo, quello del comune di Caltagirone mette a disposizione. La manifestazione all'ottava edizione significa che ha avuto già successo negli anni passati e ne avrà successo sicuramente per tanti anni ancora. Questo è il desiderio dell'amministrazione, sostenere tutto ciò che è cultura a Caltagirone, tutto ciò che può essere portato avanti con le forze dell'amministrazione ma con tanto impegno anche da parte di chi le organizza che è l'associazione Nave Argo. Siamo giunti alla ottava edizione di questa rassegna che ha due pregi importanti. Intanto quella di essere probabilmente una delle poche manifestazioni completamente dedicate all'infanzia a Caltagirone nel comprensore del Calatino. Quindi un'attenzione specifica come ormai facciamo da diversi anni con la programmazione di spettacoli proposti da compagnie professionali siciliani e non nel comprensore del Calatino. Manifestazione che ha ricevuto nel 2010 anche un importante riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica Italiana che è significativa appunto dell'importanza della manifestazione che ha un suo pregio sia dal punto di vista culturale che sociale. Cinque spettacoli da giovedì 12 fino a lunedì 16 luglio. Ogni sera uno spettacolo diverso proposto da compagnie diverse sia di teatro d'attore che teatro d'ombre e burattini.